Con Copp Liguria Startup un'altra bella occasione per i giovani per poter realizzare un'impresa. Questi ragazzi all'università hanno voglia di fare impresa? Sicuramente vogliono affacciarsi sul mondo del lavoro con le idee, la loro forza e anche le loro possibilità di crescere anche in modo cooperativo insieme anche all'importante iniziativa che sta sviluppando Copp Liguria anche grazie all'Università di Genova con il quale da tempo collaboriamo. In che modo i ragazzi possono magari sfruttare meglio il modello cooperativo rispetto ad altre forme societarie rispetto anche al vostro punto di vista universitario? Il mondo cooperativo offre delle forme di aggregazione diverse, più partecipate e in qualche modo anche qualitarie. È ancora una forma non così nota al mondo giovanile come ha anche riconosciuto il Presidente di Lega Copp Liguria. Sicuramente rappresenta una forma alternativa, complementare, che va illustrata e presentata insieme alle altre giovani perché possono liberamente scegliere qual è la forma societaria migliore. Dal vostro punto di osservazione ci sono dei settori dove c'è più possibilità di aprire e sviluppare imprese? Sicuramente il mondo ora è tutto sulla tecnologia, sul mondo dell'internet, sul mondo delle applicazioni legate agli smartphone e così via. Ma non solo. Come ho detto, recentemente ci sono capitate idee predatoriali legate al territorio, legate a idee di oggetti che non hanno nulla di tecnologico. Quindi il mercato ora è ampio e offre prospettive in tutti i settori. Chiaramente il settore che usa la tecnologia è più avvantaggiato rispetto agli altri.